Il video messaggio che Papa Francesco ha inviato ieri alla fiera dell'editoria di Milano in occasione della presentazione dei meridiani della Mondadori dedicati a Don Lorenzo Milani ha una portata storica che forse soltanto fra qualche anno comprenderemo. Tanti sono i passi che andrebbero ricordati, l'inquietudine spirituale del sacerdote fiorentino, l'ombra della croce che spesso si stagliò sulla sua azione pedagogica, l'idea di una scuola che apra la mente dei ragazzi, la straordinaria citazione della lettera a Pipetta come spinta verso una rivoluzione evangelica radicale anche rispetto ai temi della giustizia sociale. Già nel discorso del 20 maggio 2014 il Papa aveva recuperato l'esempio di Don Lorenzo, ma adesso ha fatto di più, ha dato una scossa decisiva, è come se ci avesse invitato a raccogliere da terra il testimone del priore per guardare con i suoi occhi le barbiane di oggi che stanno in Africa e in Asia e arrivano fino a noi.